Ci troviamo dal punto di partenza, dove partiremo con i due furgoni. Il punto risale a circa 27.000 anni fa. È stata formata dall'eruzione di lava dal picco viejo, che è un appendice del Teide vicino a esso. Trovano ancora all'interno, hanno trovato dei resti, dei guance, che era la vecchia popolazione che abitava l'isola prima della colonizzazione spagnola. Cercando formazioni su internet abbiamo visto che è la grotta, è la prima grotta più grande in Europa e la quinta in tutto il mondo, dopo le Hawaii.